Tre persone sono rimaste morte nella loro casa per giorni. I loro nomi sono Jesse Anni, il suo amico e collega Billy Isom e la fidanzata di Billy, Freta Bostick. Tutti e tre sono morti a colpi d'arma da fuoco. Freta aspettava una bambina di quattro mesi, morta anche lei. Si è cercato di capire come e perché tutto questo fosse accaduto, ma nessuno sembra saperlo. Anche se un passato legato alla droga sembrava accomunare tutte e tre le vittime. Ancora ad oggi, nessuno sa perché un giorno, quasi a caso, qualcuno abbia deciso di aprire quella porta e di freddarli uno ad uno. Oggi forse il responsabile di questi crimini è morto e non si è mai scoperta la sua identità. Ed è grave, perché...